Buongiorno Presidente, che cosa si aspetta oggi? Mi aspetta una bella partita e i giocatori col cuore che si veda. E' un po' emozionato perché in fin di conti questo è il suo primo Milan. Ma è certo come si fa a non essere emozionati alla prima partita, nel primo appuntamento, è come al primo appuntamento d'amore. Nella zona spesso disarticolata del Milan cresce un certo Lion Brady. Parte il sinistro del maestro irlandese, Franco Barese incerto, Barbuti no, di collo destro infilza Galli con un diagonale maligno. Un gol alla Maradona, se Diego permette. Il centroavanti toscano è andato a pescare il jolly proprio sul tappeto più prestigioso. Se lo ricorderà per chissà quanto tempo. E' il gol partita. A San Siro fa freddo.